Eeeh ciao ragazzi qui è Sabit e benvenuti in questo appuntamento delle richieste di Xenoverse 2 quest'oggi faremo la richiesta del nostro carissimo Evgo90 una molto interessante ovvero Radish contro Bardak in poche parole padre contro figlio in poche parole stiamo facendo uno degli scontri un po' richiesti dalla maggioranza di tutti quanti noi guardate ho voluto usare un Radish oh pure Stamina Break ho voluto usare un Radish decente guardate sempre della prima forma però guardate quanto è lento non mi siete mai accorti che i capelli di Radish sono quelli del Super Saiyan di terzo livello vabbè dopo tutto Bonsangue non mente il fratello di Goku guardate peccato che Radish non sia mai diventato un Super Saiyan ci sono varie ipotesi di un Dragon Ball of the Future che parla di che Radish sia anche lui diventato un Super Saiyan ehi cazzo però mamma quanto è lento Radish è lento mamma mia se è lento bene ci portiamo a casa questa vittoria cari ragazzi però è lento mamma se è lento mamma mia sono rossissimo ok ci portiamo a casa questa vittoria cari ragazzi ma adesso dobbiamo farcene un'altra perché la challenge consiste in questo allora ragazzi ritorniamo un attimo al discorso Budokai Tenkai C4 e Xenoverse 3 ragazzi io non lo so non lo so se si parla veramente di questo Budokai Tenkai C4 che esce quest'anno perché se esce mi sembra un po' strano perché ancora non è stato annunciato bene e neanche Xenoverse 3 e come vi posso dire sono comunque contento perché dopo quasi 16 anni dall'uscita di come posso dire di Budokai Tenkai C3 dalla buon vecchia PS2 però ragazzi mi spaventa un po' perché il fatto non lo fanno uscire adesso vabbè il fatto perché adesso ci sono giochi grossi come posso dire del calibro di come posso dire di Spider-Man 2 che sta alzando l'hype in una maniera incredibile sta alzando l'hype di tutti i giocatori del mondo io comunque l'ho comprato me lo comprerò insieme anche a Mirage che molti si sono lamentati di Mirage ma non capisco perché scusa qual è il senso di lamentarsi di Mirage dobbiamo solo aspettare questo Budokai molto bene ok ragazzi il video lo posso chiudere qua vi invito a lasciarmi un bel mi piace non accetto altre richieste per ora vi invito a lasciarmi un bel mi piace un commento iscrivetevi al canale qua da Subbit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti